Con l'accensione dell'albero di Natale in Piazza De Bruzzi si sono accese anche una serie di polemiche che hanno coinvolto l'attuale amministrazione comunale, l'ex sindaco di Cosenza, oggi senatore di Forza Italia Mario Chiuto. Il sindaco Franz Caruso, oltre ad accusare la Regione Calabria per non aver finanziato il Capodanno, ha affermato anche che con il dissesto ereditato dalla precedente amministrazione le vie della città saranno illuminate solo grazie al contributo di qualche imprenditore cosentino. Una polemica che si è spostata anche sui social coinvolgendo proprio l'ex sindaco di Cosenza Mario Occhiuto e l'attuale consigliere comunale di maggioranza Francesco Turco e che ha fatto registrare anche l'intervento del capogruppo del PD di Palazzo De Bruzzi, Francesco Alimena, il quale ha accusato il senatore Occhiuto di Sgarbo istituzionale per i commenti rilasciati e ritorna ancora una volta sulla mole debitoria ereditata che sta pregiudicando l'operato dell'attuale amministrazione comunale. Il Comune di Cosenza ha assigurato al 2019 un dissesto di oltre 250 milioni di euro di debito e nel 2020 e 2021, quando c'era ancora la passata amministrazione, avrebbe dovuto iniziare un pieno di rientro, mentre invece ha speso altri 24 milioni di euro dove pesano anche per esempio le 500 mila euro per le luminarie. E varie altre spese anche rivolte ad artisti che sappiamo anche non essere stati tutti pagati in tempo e come si doveva. Quindi è chiaro che a queste condizioni il nostro Natale non può essere un Natale come quello precedente, ma è chiaro che se questi fondi fossero stati spesi allora per coprire buche, per rifare tubature, oggi Cosenza non si troverebbe nella situazione in cui è. Per quanto riguarda invece la questione dei soldi di cui il Comune disporrebbe, che sono quelli di CIS e Agenda Urbana, sono soldi vincolati che noi spenderemo da gennaio in poi per il centro storico di Cosenza che per decenni è stato abbandonato e di certo non possono essere utilizzati per altre cose, magari come si faceva anche una volta, utilizzando fondi per diverse scelte. Noi li abbiamo vincolati all'utilizzo per cui sono destinati.